No, vabbè... E la marcia simbolo della banda di Conversano è una delle più belle mai scritte, Vita Pugliese di Giuseppe Piantoni. Alle marce sinfoniche inedite, Banda Larga, festival di brass, fanfare e orchestre, alla sua ventitresima edizione, dedica il primo concorso Conversano Città della Musica. Le migliori cinque composizioni, selezionate da una giuria tecnica, sono state eseguite sul sagrato della cattedrale dalla grande orchestra di fiati Gioacchino Nigozzo di Conversano, diretta da Angelo Schirinzi, e giudicate da una speciale commissione presiduta dal maestro Leonardo Lasserra Ingrosso, direttore della banda centrale della Guardia di Finanza. Il primo premio non è stato assegnato, ma la marcia che ha ottenuto il migliore punteggio è stata Paola, scritta da Walter Farina, musicista di Spinazzola. Anche il pubblico ha potuto scegliere la propria marcia preferita partecipando al voto con un'app predisposta per l'occasione. Marce e trascrizioni d'opera sono ancora oggi i cavalli di battaglia delle bande, 200 anni di storia e orgoglio meridionale.